La risposta non l'ha data direttamente il ministro Adolfo Urso ma è stata esposta dal sottosegretario Fausta Bergamotto. In Commissione Industria al Senato ieri è stato riferito che le procedure per selezionare proposte di investimento da finanziare con i fondi dell'accordo di programma per l'area di crisi locale dovrebbero partire nel primo trimestre di quest'anno. Come avevamo già riferito il senatore Grillino Pietro Orefice nelle scorse settimane aveva inoltrato un'interrogazione sul tema dell'area di crisi che potenzialmente dovrebbe favorire investimenti sul territorio alternativi a quelli di Eni. Ad oggi non si sono visti grandi sviluppi e l'accordo di programma arrivò a scadenza nell'ottobre di due anni fa. Da allora tra vari passaggi politici e burocratici non si è ancora visto lo spiraglio giusto e l'orefice ha fatto emergere un'ulteriore anomalia data dai tempi lunghi per la registrazione del rinnovo dell'accordo bloccata per troppo tempo al vaglio della Corte dei Conti. L'iter si è intanto definito nella seduta di ieri della Commissione Industria al Senato che durante la scorsa legislatura condusse un'indagine sulla mancata attuazione degli investimenti nell'area di crisi locale. Il sottosegretario ha ricordato dati già piuttosto noti dall'ammontare complessivo che non va oltre 21 milioni di euro fino alle novità normative per le imprese che intendessero proporre ipotesi di investimento sul territorio. Secondo il senatore l'orefice comunque non è pensabile che un territorio in costante crisi come quello che fa riferimento all'area con capofila Gela possa attendere quasi due anni per finalizzare il rinnovo dell'accordo di programma. Per l'orefice infatti ci sono stati dei ritardi e delle colpe evidenti anche da parte dell'ex ministro Giorgetti. L'accordo di programma e l'area di crisi complessa successivi alla riconversione green del sito Eni sono stati i primi strumenti di supporto istituzionale che avrebbero dovuto rilanciare il tessuto economico locale e di oltre 20 comuni di quattro province. Così non è stato ma i 21 milioni di euro non possono essere buttati al vento e vanno concentrati sui progetti. Ormai l'area di crisi pare destinata ad integrarsi con altri interventi istituzionali per il territorio come la Zessi in una prospettiva che guarda lo sviluppo a lungo termine. Ipotizzare direzioni precise non sembra per nulla semplice in mancanza di una vera infrastrutturazione e con tanti punti interrogativi ancora non seguiti da vere risposte per il rilancio.